Che noi non siamo immigrati, si fa molto spesso un discorso di integrazione, che si integra qualcosa che è diverso e che non fa parte dell'insieme. Qui è un discorso di inclusione, di includere qualcosa che si è dimenticato, che forse si è scordato al di fuori dell'insieme. Il problema è volerla, desiderarla e quindi non ottenerla per automatismo. Volevo rispondere a Rampelli. Io sono andato qua, ho studiato qua, parlo romano, lavoro qui, frequento l'università qui. Quindi il discorso sul guadagnarsela potrebbe anche essere giusto, ma come si dice Roma, se non me la so guadagnata io.